Cos'è il viaggio? Il viaggio è condivisione, una raccolta di esperienze uniche. Il viaggio è tutto, è la bellezza mozzafiato della natura. È il trionfo dei sensi, è la scoperta di luoghi incredibili e l'incontro con persone uniche. Il viaggio. Il viaggio è relax totale o pura adrenalina. Il viaggio è passare il proprio tempo libero con gli amici o affrontare sfide solitarie. Il viaggio ci regala i ricordi più belli e le storie più affascinanti da raccontare. Adesso non possiamo viaggiare. La nostra salute e la nostra sicurezza sono la priorità. Ma anche quando dobbiamo rimanere distanti, il viaggio può tenerci vicini. Unisciti a noi e celebra insieme a noi il valore che viaggiare ha per ognuno di noi. Condividi le tue storie, i tuoi ricordi più indelebili o le tue avventure più sorprendenti. Condividi le tue foto preferite, i tuoi video o le canzoni che hai ascoltato mentre viaggiavi. Ispira ed aiuta gli altri. Stimola la loro immaginazione e lascia che gli altri stimolino la tua. Falli innamorare o piangere. Allarga i loro orizzonti. Fai spalancare i loro occhi. Sosteniamoci a vicenda in questo periodo. Manteniamo viva la fiamma del viaggio. Alimentiamo la nostra voglia di ripartire. Ancora. Perché il viaggio è condivisione. Ed è con la condivisione che torneremo alle nostre vite. E anche a vicenda. Grazie a tutti